La Polizia Municipale di Napoli è intervenuta in un complesso adibito a location di eventi e cerimonie ai colli aminei, sequestrando una discarica di ben 15.000 metri quadri. L'operazione condotta dagli agenti dei reparti di tutela edilizia e tutela ambientale ha scoperto, tra animali da cortile di varie specie allevati dal titolare della struttura, l'esistenza di rifiuti di ogni genere, quali amianto, copertoni, batterie, carcasse di elettrodomestici e anche vecchi autoveicoli semicoperti dalla vegetazione. L'area sequestrata sarà messa in sicurezza e bonificata dal proprietario, secondo le disposizioni delle autorità, che è stato denunciato per abbandono di rifiuti speciali e pericolosi.